buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la nostra vostra rassegna stampa che ci seguiate dalla versione 6 e 45 del mattino fino alle 9 30 che abbiate scelto opzionato la versione 13 e 30 e 14 e 30 buongiorno per tutto il giorno una nuova settimana incombe su di noi con un meteo che come aveva anticipato farà un po di quello che deve fare cioè l'autunno tempesta autunnale e il ciclone medusa non dappertutto nel weekend è piovuto ma abbiamo testimonianze di bombe d'acqua nella zona del fermano nella zona della civita novese faremo di nuovo il punto tra poco nulla di fortunatamente nulla di straordinariamente serio nella giornata di oggi non dovrebbe piovere la pioggia oggi sarà su puglia basilicata campagna calabria e anche un po di lazio domani neppur piove mercoledì 18 così è se vi pare se gli pare al meteo dovrebbe piovere così mettiamo subito a posto il meteo partiamo anzi ripartiamo dal nostro sito etv marche.it che sempre la nostra stella polare dell'informazione concetta e il coraggio di denunciare dopo vent'anni di soprusi ma nonostante questo nonostante l'intervento delle forze dell'ordine nonostante il processo in corso nonostante il braccialetto elettronico la donna non è stata salvata dalla società sentiamoci tutti responsabili qual è il problema il braccialetto ha suonato perché l'uomo aveva un divieto di avvicinamento entro i 200 metri ma quando oramai il braccialetto è suonato quando ormai purtroppo l'uomo era già dentro casa e davanti alla figlia avrebbe ammazzato l'ex moglie escono dalla chiesa altra notizia da etv marche punto it siamo a macerata escono dalla chiesa e poi si schiantano contro un muro morta una donna gravi marito e cognata noi abbiamo anche le immagini del luogo della tragedia doveva essere una domenica di festa ma appena usciti di fatto dalla chiesa per una cresima lo schianto contro un muro è successa a macerata in via lori ringraziamo il collega roberto properzi per le immagini la questione api perché noi si abbiamo seguito i 90 anni dell'api sabato attenzione abbiamo seguito anche e soprattutto la manifestazione della cittadinanza il fronte della protesta eccolo qua trovate il dettaglio sul nostro sito etv marche punto it basta esalazioni si cambi strada da tanti da troppi anni si parla di riconversione questo emerge dal nostro sito basta un click e trovate il servizio tra l'altro io l'ho riproposto anche ieri nel telegiornale di pranzo ora le notizie dai siti dal lavoro dei colleghi poi andiamo alla carta stampata inevitabilmente in primo piano l'omicidio di concetta sul corriere ma anche sull'edizione del carlino marchigiano il delitto di cerreto desi e il mistero del braccialetto elettronico l'alert è suonato quando l'uomo appunto era già in casa questo il primo tema con l'auto contro un palazzo anche qui stesse notizie che trovate anche sul nostro sito e allora una notizia per ogni provincia partiamo dal fermano perché medici a gettone l'allerta dell'ordine già sono pochi così si favorisce la fuga dei dottori perché da privato da iscritto a una cooperativa si guadagna di più ho cercato però anche di aiutare a capire qual è il quadro è vero che guadagni di più da privato da addetto a una cooperativa però non hai la tutela che ti garantisce l'essere dipendente quindi ti devi pagare da solo tante cose che invece da dipendente ti paga l'azienda la marcia dei 500 dal fermano sanità al pesarese ambiente marcia dei 500 su riceci il sindaco fabrizioli ringrazia il vescovo che era alla testa di questa iniziativa ora basta con i maxi impianti non vogliamo diventare la pattumiera d'italia questo lo slogan che campeggiava sul striscione ancora attenzione questa già alcuni amici amiche che tifano contro i vaccini del covid 19 e contro le regole dell'epoca e quindi contro il green pass sembra strano parlarne oggi ma è non più tardi di un anno e mezzo fa che vigevano queste norme accusò un vigile urbano il giudice lo assolve era stato fermato per il lockdown si è spento invece icilio caciornia una vita dedicata ai motori succede nel maceratese infine un altro riconoscimento per lo chef moreno cedroni che insieme con uliassi rappresenta davvero il top del top dell'enogastronomia italiana e li troviamo qua a poca distanza dalla sede di etivo in mezz'ora si va tra le stelle della cucina italiana andiamo ancora a notizie dai siti auto imbrattate lampioni rotti assassate minaccia un residente ti taglio la gola vandali scatenati a montemarciano eccole un paio di immagini di quanto successo il comune di montemarciano in balia dei teppisti approfondiremo tra poco intanto marzia buongiorno falcao buongiorno antonio buongiorno marinella buondì grazie ancora a fabrizio che ci dedica questo cielo stupendo dalla zona di sarnano ciao marizio volevo segnalarti altro messaggio questo importante incontro con il dottor gabriele bianchelli sull'auto esame al seno hai fatto benissimo a segnalarcelo l'auto esame del seno potrebbe salvare una vita e allora alle 18 presso il circolo germontari auto esame del seno circolo germontari se non sbaglio ce ne sono tanti in italia ma ce n'è uno anche a dancona il relatore il dottor bianchelli alle ore 18 19 di ottobre segnatevi la data save the date io quel giorno metterò un fiocchetto per ricordarlo buondì qualcuno mi dà un consiglio stamattina visita a torrette meglio passare sesso o sopra forse sotto perché sesso mi faccio gli affari miei non ti do consigli sotto sopra che ci sono i lavori grazie rosi guarda se ti può consolare di mattina cara rosi è un casino sia sotto sia sopra quindi non sbagli sicuro andiamo ai giornali la carta stampata quello che trovate oggi in edicola contenziosi da super bonus siamo con l'edizione del corriere zona ascoli e san benedetto ma gireremo tutte le marche nella provincia picena in un cantiere su tre pensate proprietari e imprese finiscono in tribunale concetti presidente dei geometri spiega per la burocrazia solo il 10 per cento dei richiedenti ha usufruito dei benefici del super bonus 10 per cento è pochissimo la samb parliamo anche di sport si salva al photo finish un pari col fosso ombrone e allora sfuma il primato pannelli solari nella valdaso il no della col diretti ancora una volta il tema dei pannelli solari utili non utili cosa si deve fare in questi casi da un lato la necessità di energia dall'altro la necessità di mantenere belli i nostri prati le nostre colline i nostri campi queste erano solo due notizie 2 su ascoli e san benedetto vi porto a macerata e provincia pedoni più sicuri scatta il piano via ai lavori nella zona di santa lucia per renderla più sicura che ci sia diversi marciapiedi interessati da interventi di restyling vi ho anche mostrato una foto è poco fa se ce la fo non ce la fo ce la fo ce la fo eccola marciapiedi in zona ospedale qui in questo punto via libera al piano di restyling resto un attimo sul sito prima di tornare sull'edizione cartacea perché come ho già detto qualcuno mi sta un pochettino tirando per la giacchetta avevi detto che pioveva non è piovuto eccetera eccetera in realtà è caduta e come la pioggia non è che voglio dire ve l'avevo detto avevo ragione però insomma per essere chiari bomba d'acqua e allagamenti andate la chiedere a chi si è ritrovato gli scantinati allagati nella zona di civita nova breve ma spaventosamente forte la bomba d'acqua che si è abbattuta in serata su civita nova garage e seminterrati allagati in gran parte della città con i vigili del fuoco che complessivamente hanno effettuato un centinaio di interventi a proposito di vigili del fuoco c'è stato ieri un open day meraviglioso io non me lo potevo perdere alla caserma di ancona tra poco vi faccio vedere e sentire queste promesse della sicurezza della salute era è stata la settimana della protezione civile tante iniziative questa non me la potevo perdere però prima fatemi completare il quadro del giornale su macerata oltre al marcio a piede davanti all'ospedale la re canatese non si ferma più altubaldi battuto l'arezzo con il punteggio di 2 a 0 ancora schianto dopo la cresima donna muore in via roma eppure qui purtroppo ho un'immagine auto contro una casa feriti marito e cognata vittima una settantottenne originaria di camerino il tragico incidente in via roma ha perso la vita francesca bella barba è pronto il servizio con i baby pompieri ad ancona ci sono delle famiglie che giustamente chiedono di poterlo vedere prima però un paio di titoli dal pesarese palazzo mazzolari puzzle risolto indirittura ad arrivò il progetto esecutivo cantiere già in primavera tutti i contenitori hanno quindi un futuro accordo con prefettura e galleria delle marche per la capitale 2024 apriranno nuove sale espositive poi lo schianto l'incidente pauroso sulla pergolese carambola tra auto il bilancio è di tre feriti ma poteva finire molto molto peggio e adesso ci consoliamo un po con questi piccoli campioni della protezione civile che hanno provato il mitico caschetto da pompiere nicolò cosa vuoi fare da grande il pompiere il pompiere ma perché vuoi fare il pompiere vuoi salvare gli altri bambini come te li vuoi aiutare ma mamma lo sa che vuoi fare il pompiere si è contenta lei è open day giornata mondiale mi pare di aver capito una bella iniziativa con i bambini vengono coinvolti interessante c'è qualcosa di speciale che lega i cittadini alla divisa dei pompieri sarà che sono sempre tra i primi ad arrivare in caso d'emergenza di calamità naturali di incidenti nelle marche terra di alluvioni e terremoti il loro ruolo è spesso risultato cruciale per salvare vite umane sarà dovuto anche a questo il successo dell'open day proposto dalla caserma di ancona nell'ambito delle iniziative legate alla settimana della protezione civile centinaia di famiglie tra grandi e piccini hanno indossato il mitico casco provato l'inconfondibile sirena un modo per dire grazie di stringere la mano di chi è sempre pronto a tenderla verso gli altri ma guarda veramente noi non pensavamo questa affluenza oltretutto sono soltanto le 11 quindi penso che aumenterà ancora il numero delle persone di ancona che vengono qua per noi è una grande soddisfazione perché questa è la prima volta a parte l'inaugurazione che abbiamo fatto a marzo che apriamo la cittadinanza quindi significa che c'è un grande attaccamento ai vigili del fuoco e al comando di ancona in particolare noi stiamo cercando di far vedere tutto mezzi, attrezzature, sala operativa, anche il museo storico che molti non sanno che abbiamo un museo storico al piano degli uffici che è bellissimo visitare gestito dall'associazione nazionale vigili del fuoco quindi con il personale a disposizione cerchiamo di fare un po' di tutto è un bambino che sogna di indossare la divisa che consiglio dà? beh di continuare a pensare che quello è un bel futuro e poi crescendo di impegnarsi per raggiungere l'obiettivo ci conferma che il pompiere paura non ne ha? no il pompiere paura ce l'ha, l'importante è saperla gestire senti ma il fuoco ti fa paura un po'? no per niente allora sei un pompiere, bravo bravo è sempre bello visitare questo luogo, bellissimo tantissimo, sarei piaciuto anche a me sinceramente è un po' il sogno di tanti piccini quello di indossare la mitica divisa dei vigili del fuoco un abbraccio a tutti coloro che lavorano con una divisa oggi indosso in fondo il sole c'è, ciao da Saverio, che bella questa immagine che ci dedica il mitico Saverio un abbraccio caloroso da parte di tutta la nostra redazione avevo sfogliato il giornale per il pesarese, torno alla carta stampata abbiamo dato un'occhiata anche alla maceratese con la recanatese, cosa ha fatto la recanatese? al Tubaldi battuto l'Arezzo 2-0 andiamo ad Ancona e provincia sempre con i giornali che trovate oggi in edicola Concetta e l'Alert in ritardo ex moglie massacrata con 15 coltellate Panariello era già in casa quando si è attivato il braccialetto elettronico davvero una beffa denuncia e processo non hanno evitato il femminicidio c'è una falla nel sistema il codice rosso non basta è allo studio, aggiungo tema al tema una norma per la quale la distanza minima in caso di denuncia da parte della donna sia di 500 metri perché 200 metri sono davvero poca cosa quando scatta l'allarme come in questo caso si rischia che le persone vittima e carnefice siano già in contatto i vandali padroni del Pala Veneto sempre dal giornale per Ancona e provincia la sfida al comune sigilli apposti e già tolti in meno di 24 ore una sorta di schiaffo la nonnina alla polizia questa è una storia che ha commosso il web sono sola, mi aiutate ha 84 anni e disperata e telefona per avere conforto mio marito è malato i figli sono lontani da sola non ce la faccio pronto polizia sono sola potete venire capita sempre più spesso che arrivino al centralino di forze dell'ordine e onlus richieste di aiuto strappalacrime è successo anche sabato quando in questura è arrivata la telefonata di una 84enne che diceva di vivere una situazione di disagio perché il marito è allettato e i figli sono lontani Ancona ancora una volta beffata nei minuti di recupero dopo il pareggio che vi avevamo raccontato per 3-3 contro la Vis al 93esimo stavolta al 97esimo è arrivato il gol che ha portato il KO a Carrara davvero minuti di recupero amari amarissimi per la compagine di mister Donadel sempre più in ebilico le notizie dal Fermano prima però altri saluti ti ho mandato un video con il sottopasso di Civitanova con un po' d'acqua e si alla faccia di chi dice che non è caduta la pioggia non puliscono i tombini pur sapendo che viene tempo cattivo e da noi ci sono i pini che questo periodo perdono gli aghi e quindi a Civitanova si tappano più facilmente se puoi guarda il video grazie Carla ci proviamo Betta buongiorno Silvana buongiorno Donatella buongiorno per confermare carissima che abbiamo parlato del maltempo a Civitanova eccolo qua ce l'avevo ancora aperta a Civitanova garage e semi interrati allagati in gran parte della città con i vigili del fuoco che complessivamente hanno effettuato un centinaio di interventi non è andata meglio in quel di Monte Cosaro dove in via Cavallino si è verificato il crollo del tetto di un'abitazione bomba d'acqua che è caduta invece verso le 18 a Smerillo nel Fermano e ha bloccato circa 30 auto parcheggiate in un campo a 10 centa al luogo dove si svolgeva una tradizionale castagnata 349 39 18 169 bellissimo questo scatto dell'amico Saverio in fondo il sole c'è ciao da Saverio guardate che meraviglia grazie ancora adesso vi porto ahimè a quanto è successo a Cerretto Desi Concetta il coraggio di denunciare ma il braccialetto elettronico non ha funzionato era stato fatto tanto evidentemente non tutto per Concetta una signora solare che aveva voglia di vivere che aveva voglia di dedicarsi agli altri e che ha avuto la tremenda disgrazia di un marito che da anni la maltrattava così Luca Talevi descrive Concetta Marruocco finita con 15 coltellate nella notte tra venerdì e sabato dall'ex marito Franco Panariello la storia della coppia originaria di Torre del Greco era ormai finita in tribunale Concetta dopo 20 anni di soprusi aveva trovato il coraggio di denunciare il marito stando a chi la conosce non l'aveva fatto prima per paura che le togliessero i tre figli due sono ormai grandi la terza a 16 anni e anche lei veniva maltrattata dal padre padrone l'uomo che ora viveva a Fabriano lontano diversi chilometri dalla casa familiare di Cerretodesi aveva il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico ma questo non è bastato per proteggere Concetta negli ultimi tempi era una donna nuova scrive in un comunicato l'associazione Artemisia di Fabriano che gestisce lo sportello antiviolenza ha testimoniato con consapevolezza lucidità e determinazione voleva contribuire per aiutare le donne che come lei vivono la sopraffazione e la violenza maschile fa sapere ancora l'associazione Panariello ha stroncato ogni slancio di rinascita lunedì ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto in tribunale ad Ancona Concetta era anche una brava infermiera e il lutto coinvolge anche le colleghe e i colleghi Concetta lavorava all'ospedale di Materica ora a casa della comunità negli ambulatori della struttura e amava il lavoro era stata anche nostra candidata all'RSU nel 2018 era stimata dai colleghi e anzi il lavoro in questi momenti così difficili veramente le serviva per pensare ad altro anche agli altri pensava Concetta nonostante le difficoltà e i problemi che aveva in famiglia buongiorno dal Pincio per fortuna i vostri messaggi ci consolano un pochettino rispetto al quadro che vi stiamo raccontando bellissimo questo scenario il cielo è coperto l'autunno è finalmente arrivato guardate un po' anche le webcam che abbiamo a disposizione che ci confermano questo gioco di luci e di ombre a proposito di concetta do un ulteriore elemento l'ho vista accoltellata si faccia giustizia per lei e la figlia che si sfoga su facebook rispondendo a chi commenta sul profilo del padre e ora che si faccia giustizia per tutti soprattutto per mia madre che era una donna fantastica bisogna parlarne anche se io lo faccio con un buco incolmabile nel cuore di queste cose mia madre non vorrebbe che questo succeda ad altre donne la violenza di genere esiste a parlare è la ragazza che ha visto la madre accoltellata dal padre il dramma di Cerreto torniamo alle notizie dai siti per cercare di dare anche qualche altro dettaglio rapidissimamente su alcuni temi che abbiamo solamente sfiorato e allora marciapiedi in zona ospedale via libera al piano di restyling siamo al cospetto di lavori in corso che finalmente dovrebbero prendere la via maltrattamenti in famiglia eccoci qua nel fermano scattano altri tre codici rossi carabinieri bloccano mariti violenti ma sarà sufficiente questo? abbiamo visto che Cerreto non sempre è sufficiente a Pesaro dopo lo sfregio alla palla di pomodoro martellate calci contro le panchine e i leoni alati ma che amarezza vedere come venga deturpato il bene pubblico non si ferma la mano dei vandali contro i simboli di Pesaro in Viale Trieste dopo lo sfregio alla palla nella notte tra venerdì e sabato è toccato alle panchine dell'Arenco con l'effigie dei leoni alati in Piazza delle Libertà la questione super bonus il collegio dei geometri che tira le somme nella scolano il 30% dei contenziosi fra brocco dei cantieri errori in pratica l'altro dato statistico altrettanto forte che di fatto solo uno su dieci che abbia fatto richiesta di super bonus nelle marche ha avuto soddisfazione altri giornali eravamo pronti con il fermano con il castello che torna a vivere stavolta la carta stampata Rocca Montevarmine stop a dubbi e ritardi conto alla rovescia per presentare il progetto con l'impegno del commissario Castelli per la ricostruzione Medici a gettone allerta dell'ordine l'ospedale Murri e le scelte per il futuro violenze contro le mogli eccolo qua scattano tre codici rossi anche nella vicenda di Cerreto c'era il codice rosso attivo ma non è stato sufficiente Smerillo scoppia il temporale alla maxi Castagnata bloccate trenta auto questa ve l'ho già raccontata attraverso l'edizione online del Corriere che ha raccontato appunto di questa perturbazione con bombe d'acqua anche nel fermano vi racconto rapidamente la caduta una bomba d'acqua è caduta verso le diciotto a Smerillo nel fermano e ha bloccato circa trenta auto parcheggiati in un campo adiacente al luogo dove si svolgeva una tradizionale Castagnata i partecipanti si sono precipitati a riprendere ripeto siamo a Smerillo le loro vetture ma non sono riusciti ad uscire dal terreno che nel frattempo si era inzuppato d'acqua mentre le auto sono rimaste bloccate a causa del fango e della melma accumulati sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nel frattempo le persone sono state assistite anche perché da lì davvero non si poteva uscire non si poteva scappare come si dice dalle mie parti 349 39 18 169 torniamo alle nostre notizie escono dalla chiesa dal nostro sito etvmarche.it escono dalla chiesa poi si schiantano contro un muro morta una donna gravi il marito e la cognata noi abbiamo su questo un servizio ve lo facciamo sentire doveva essere una domenica di festa ma appena usciti dalla chiesa per una cresima lo schianto contro un muro è successo a macerata in via lori la donna che era al volante Francesca Bella Barba di 78 anni ha perso la vita mentre il marito Luigi Vannucci 79enne in auto con lei e la cognata Elena sono stati soccorsi dai sanitari e portati il primo all'ospedale di macerata l'altra in all'ambulanza a torrette in gravi condizioni la polizia locale sta facendo i rilievi del caso da capire se lo schianto sia stato preceduto da un malore che poi non ha lasciato scampo alla 78enne non avrebbe fatto lo stop finendo proprio contro il muro e travolgendo uno scooter parcheggiato nei pressi questo da macerata per quanto concerne la cronaca buongiorno a tutti voi da Camerano ci scrive l'amica Alessandra grazie Alessandra Bazzico spesso da quelle parti buon lunedì a Patrizia buon lunedì a Carla a Betta e torniamo rapidamente sul giornale sui giornali locali c'è un'edizione quella del Carlino che il lunedì nella versione regionale in un fazzoletto di titoli ci riporta ai grandi temi allora giuramento dei 29 nuovi medici questo è importante siamo nel fermano 29 nuovi medici hanno giurato festa sì ma anche polemiche basta con i tagli alla sanità il rischio è che dal pubblico si vada al privato si perdano professioniste e professionisti oggi si parla anche di sanità dei cosiddetti tagli appunto perché oggi la nuova manovra la legge di bilancio va al vaglio del consiglio dei ministri la nuova IRPEF vale 22 euro al mese l'impatto sui salari il governo varierà provvedimenti per 23 25 miliardi ci saranno non tanto i tagli sarebbe più corretto definirli mancati rifinanziamenti o ridotti rifinanziamenti alla sanità punto di domanda chiaramente ci auguriamo di no anche il Carlino chiaramente parla purtroppo di concetta che moriva mentre la figlia vedeva tutto il braccialetto elettronico c'era ha funzionato ma quando lui era già in casa la questione covid l'ho detto l'ho raccontato mentre c'è chi dice che non ne ho parlato no no ne ho parlato medico vince il ricorso non si era vaccinato era stato sospeso perché ha vinto il ricorso perché aveva già avuto il virus e così ricorderete una covid valeva come una vaccinazione per questo ha avuto ragione l'ho Grazie per la visione!